L'idea è di venire a Pescara, che gli mancava come città, ha lavorato per 25 anni, quindi è molto contento adesso di aver portato le sue opere anche qui. Un esercito di immondizia ha invaso Pescara, sono mille le figure antropomorfe, ricordano quelle del mausoleo dell'imperatore cinese Xi'an, ma anziché di terracotta, queste statue sono fatte di rifiuti, plastiche, lattine, pezzi di metallo, gettati via, ma che ora acquistano nuova vita, con l'obiettivo di sensibilizzare riguardo la salvaguardia dell'ambiente. Noi produciamo tanta immondizia, quindi è molto importante il fatto di saperla riciclare, perché altrimenti diventiamo noi stessi garbage, no, immondizia, quindi molto importante. L'installazione dal titolo Trash People, ad opera dell'artista tedesco A. Schuetz, rimarrà in piazza della rinascita a Pescara fino a domenica, nella ricerca anche dei materiali, da dove vengono. Le trovi direttamente fuori dalla tua finestra, esattamente le stesse. La mostra, dopo aver attraversato molte città, Roma e Matera in Italia, approda anche nel capoluogo adriatico, per iniziativa del Comune, di Ambiente S.p.A., di Fondazione Pescarabruzzo e della Camera di Commercio. Un'occasione per riflettere su tutti quei piccoli gesti quotidiani, che possono proteggere o danneggiare il mondo in cui viviamo. Tutti noi artisti viviamo anche in questo mondo, quindi dobbiamo essere molto attenti e far sì che tutto possa essere riciclato allo stesso tempo, perché viviamo noi stessi nel riciclo di questi materiali. In questa domanda dobbiamo rispondere.